Good morning a tutti voi e buona giornata. Intanto ieri avevo detto che riprendevamo il Vangelo di Matteo, ho sbagliato perché siamo ancora nel tempo di Natale dopo l'Epifania e quindi andiamo un po' così, tra un Vangelo e l'altro. Adesso siamo al capitolo sesto di Marco, versetto 34. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli, dicendo il luogo è deserto e ormai è tardi. Congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro, voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero, cinque pani. Ah, scusate, mi è bloccata la registrazione. Cinque pani e due pesci, e ordino loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani, i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e gli dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene. E quanto restava dei pesci? Quelli che avevano mangiato i pani erano circa cinquemila uomini. Appunto, abbiamo saltato, cioè siamo saltati da un Vangelo all'altro, e la moltiplicazione dei pani è uno dei brani che tutti gli evangelisti raccontano. È uno di quegli episodi che ha molto colpito la prima comunità cristiana, ha molto colpito gli evangelisti. Ed è un brano eccezionale, è un brano eccezionale perché i discepoli sono stati mandati ad annunciare il Vangelo, tornano, tornano per riposarsi con il Signore, ma una folla li attende. E c'è questa compassione di Gesù, sceso dalla barca e gli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, che è bellissima perché Gesù li prende in disparte per parlare di quello che è accaduto, però poi c'è gente e lui ha compassione. E la compassione non si comanda a bacchetta, ma si vive. Ecco, ci sono delle situazioni in cui noi vorremmo dire programmiamo le cose, facciamo dei progetti, ma poi di fronte all'umanità, di fronte all'umanità che soffre, o c'è la compassione o siamo mestieranti, ecco, o siamo insomma amministratori di una cosa, no? Può succedere anche a noi tante volte, ecco, deve sempre venire prima la compassione per l'uomo, per l'uomo che è in una situazione di disagio. E qui semplicemente viene fuori la difficoltà dei discepoli a stare dietro a Gesù, perché loro hanno una soluzione molto pratica. Congedali, mandali via, che è un'esperienza che noi pensiamo molto poco spesso, forse, quando fuggiamo dei problemi. Anche in questo tempo di Covid, noi potremmo dire congedali, stiamo qui, c'è questo periodo così difficile, non facciamo nulla. E invece il Signore ci chiede di metterci in gioco, date loro voi stessi da mangiare, insomma, quanti pani avete, quanti pesci avete, fuma qualcosa, diciamo noi, in Piemonte, ecco. Cioè diamoci da fare, è sempre la condivisione che genera miracoli. Io ne ho avuto esperienza tante volte, quando condividi la vita si moltiplica, ed è bella questa cosa qui, il miracolo, e mettere nelle mani di Dio quello che siamo, quello che abbiamo, quello che possiamo condividere. E da lì nasce, nasce veramente tanto. Sono già 5 minuti e 15 secondi, le cose belle della giornata di ieri, cito solo una cosa, siamo ritrovati con le catechiste, ripartiamo, abbiamo bisogno, voglia di ripartire, ma non di ripartire semplicemente per rifare il catechismo, ma perché abbiamo voglia, bisogno di fare un'esperienza con i bambini, con i ragazzi, perché appunto la vita non si ferma mai, e noi non vogliamo fermarci. Allora, buona giornata.